di prendere questa occasione per polemizzare con il potere. Sì, col sorriso sulle labbra, con l'allegria, ma riuscire a dire un po' quello che ognuno pensa, anche quello che sono gli eccessi di questo periodo, di questa generazione, della nostra generazione, che un po' ha portato, trattano in basso e non guardano le stelle, insomma, quasi costretti a non volgere lo sguardo verso l'alto e sono lì un po' appesi, un po' tristi, un po' angosciati, quando invece basterebbe forse guardare, alzare lo sguardo. Al potere. Donne in cima alla piramide. Le donne, la Meloni e Ursula. Perché una cosa essenziale sono i giornali. Ah certo. La cosa essenziale è la raccolta della carta, per farci poi la carta festa, per cui c'è una grande raccolta di giornali, di quotidiani. Sono i quotidiani quelli che funzionano meglio nella creazione della carta festa. Il tipo di carta è quello giusto? È quello dei quotidiani, che poi viene utilizzato.